Allora siamo sempre con Samuel Scavazzin, segretario della CISL Padovero Vigo. Accennavo un'altra questione, le dimissioni, tante dimissioni, 4600 dimissioni volontarie telematiche trasmesse nei primi 4 mesi del 2022 dagli uffici vertenze di CISL Veneto, però vabbè, sono numeri da paura. Cosa sta succedendo? Allora il fenomeno secondo me è duplice, nel senso uno si è anche visto e proprio oggi è uscito su un quotidiano anche a carattere nazionale, posso anche dire lo Repubblica, che parla anche proprio della questione di dimissioni del Veneto. Sì accenna proprio lo strano caso del Veneto che in realtà lì parla. Dice per lo più marschi con un contratto a tempo indeterminato occupati di buona misura con mansioni a basso contenuto professionale. No, che la cosa dicono che entro sette giorni poi trovano già un altro lavoro. Sì, nella settimana. Il 44%, sì, anche qua allora nel senso, no, sarà anche vero così, beh, ovvero. L'avranno già trovato e danno le dimissioni. Infatti non è che uno si dimette, quindi anzi probabilmente a questione dei sette giorni sono il preavviso detto tra noi, quindi sarà quello. Però sicuramente ci fa capire che c'è i lavoratori allo stato attuale, i dipendenti, mettiamoli così. A proposito dei rinnovi contrattuali che dicevamo prima, probabilmente, capiamoci, forse dopo due anni di pandemia, anche che ha scombussolato anche i nostri rapporti, anche la conciliazione vita-lavoro, vita-vita o lavoro-lavoro. La questione va anche della guerra, cioè siamo stati sobbalzati di mille e più notizie, stiamo vivendo un momento veramente tragico, aumento di prezzi e tutto. Però il paradosso è che magari i lavoratori stessi non si accontentano o non guardano più come parametro importantissimo la monetizzazione. È un po' un controsenso, però probabilmente stanno guardando anche la questione del benessere al lavoro, quindi del stare bene, quindi magari stanno cercando o si dovrebbe cercare un lavoro in cui magari ci sia la flessibilità, il concetto di smart working adesso è molto più importante e conosciuto rispetto a due anni fa, che due anni fa poteva essere paragonato a una bestemmia. Adesso no. Poi la questione, io non dico ovviamente, ma non sono d'accordo sulla questione che certe figure professionali non le trovi per colpa del reddito di cittadinanza, che il reddito di cittadinanza ha delle sue colpe, nel senso ha aiutato per le persone veramente indigenti e tutto, quindi ha dato una mano. La colpa è poi di non aver fatto il successivo passo, che sono le politiche attive sul lavoro. Quindi la mancanza di formazione è rimessa. Quindi quella è la colpa che io do assolutamente. Però quindi probabilmente adesso i lavoratori stanno vedendo altri parametri, che ripeto, la contrattazione e anche il fare sindacato, attualmente ci devono anche pensare a come farlo, quindi in maniera non tornando al passato, a come si faceva a contrattazione anni fa, ma adesso i parametri devono essere anche diversi. Ripeto, sul salario è assolutamente importante, però ci fanno ragionamenti, vediamo anche qualche azienda in Veneto, in Friuli, che dicono facciamo le quattro giornate lavorative, non più cinque. Ma infatti il discorso è anche, io penso anche questo, se la Germania per esempio, in Germania hanno dei... Poi la Germania è un altro esempio, insomma che poi... Hanno dei redditi estremamente alti, lusinghieri, non hanno tantissime ore di lavoro, perché loro alle cinque, scaraventati fuori dagli uffici, assolutamente sì, hanno delle ferie lunghissime, hanno tante di quelle ferie e guadagnano bene, cioè anche se le condizioni hanno una modalità di lavoro che non è così creativa, fantastica, sono tante fabbriche, con tantissimi dipendenti... Sono tedeschi, esatto, però a fronte di comunque una situazione di tempo libero, di un reddito alto che ti consente poi di andare in ferie dove comunque vuoi, avere delle... uno chiude, tappa il naso e anche ci va. Da noi invece, eh no, perché hai un reddito basso, condizioni di lavoro che esulano dalle famose sette, otto ore che ci possono essere, e straordinari non pagati e questo e quest'altro, noi diciamo, no basta, il gioco non vale la candela. La risposta cinicamente, ma proprio è molto semplice, in Italia manca la produttività. Cosa vuol dire manca la produttività? Manca la produttività. Se noi pensiamo, ad esempio, a un buon contratto di apprendistato metalmeccanico, in Italia un lavoratore appunto apprendista prende 1300 euro, in Germania 2400, a parità, ripeto, di mansione e tutto. Perché? Perché comunque in tutti questi anni, in Italia i nostri salari, che uno ci credo no, ma è così, hanno coperto tranquillamente l'inflazione, anche perché non ce n'era di fatto, quindi non hanno perso sulla parte inflattiva. Noi abbiamo perso come sistema Italia sulla produttività, perché ad esempio purtroppo non sono stati fatti o agevolati imprese magari migliori, tecnologie migliori, quindi anche per dire, quindi tornando all'esempio... ricerca e innovazione in azienda. Assolutamente no, assolutamente no. Se noi pensiamo, anche lì lo dico, non è che magari gli imprenditori tedeschi siano più filantropi o i sindacalisti tedeschi siano migliori, è che là puoi dare molti più soldi, perché là ci sono anche molti più servizi. Tra le altre cose? Ci sono molti più servizi. Il guadagno di più e anche più servizi. Ma anche le fabbriche stesse, magari in Italia in un'ora fai 100 pezzi di un qualcosa, in Germania magari ne fai il doppio. E quindi anche lì puoi ragionare con una flessibilità, con un mercato del lavoro diverso, anche con una questione, bisogna anche dirlo, con una questione anche di persone, di giovani, che qua purtroppo nel nostro territorio stanno iniziando anche a mancare. Cioè tante figure noi non le abbiamo perché mancano oggettivamente i giovani. Ma non c'è neanche convenienza per anche una famiglia. Le famiglie che conosco, che hanno giovani, non è che li incentivano a restare qua, a meno che uno non voglia avere una badante, un domani, figlio badante, una figlia badante. Anzi, il vero problema del nostro territorio, che secondo me è molto interessante da studiare per poi prevenire certe cose. Se noi pensiamo a Padova, una città universitaria e quindi attrattiva verso i giovani perché vengono a studiare, quantomeno per quello. Però è tipo al cinquantasettesimo posto. Non lo è professionalmente. Da un punto di vista poi di attrattività e quindi nel senso magari è la prima occasione. E i giovani in questo caso non è che scappano a New York o Londra, se ne vanno a Milano, a Bologna. Quindi probabilmente là c'è anche una questione, anche come regione, come territorio, da capire. La questione di servizi, la questione di innovazione, la questione della vivibilità anche. Quando una nazione viene governata sempre dalle stesse persone da oltre 40 anni che fanno come lavoro i mestieranti della politica senza conoscere il mercato italiano reale, non andremo da nessuna parte. Oltre che il mercato italiano reale, la vita reale delle persone, perché fa i conti veramente della spesa. Ma anche delle persone, ma anche, ripeto, anche io dal sindacalista delle aziende stesse. Perché è inutile magari tenere... Cioè, bisognava, però adesso o lo facciamo, non voglio dire o adesso mai più, come ho detto prima, o sta cabina di regia che non serve per adesso, serve per i prossimi 30-40 anni, perché ci sono delle cose, delle condizioni, tipo il PNRR, che le stiamo perdendo. Perché il PNRR dovrebbe... Cioè, sarebbero dei soldi per fare dei mega investimenti futuristici per pensare veramente al futuro. Invece magari tre quarti dei comuni tirano fuori progetti che hanno nei cassetti, tipo piste ciclabili o quant'altro lì, che poi non potranno avere un reale plus di guadagno. Sì, sarà importante, ma poi il PNRR sappiamo che c'è una parte che dobbiamo ripagarla. Ah sì, senza dubbio. Quindi per quello, insomma, certo, a tassi agevolati, tutto quello che vogliamo. Però bisognerebbe fare, anzi, bisogna fare degli investimenti che poi ci diano anche ricchezza, ci diano un ritorno. Perché se no poi facciamo delle cose che, non voglio dire inutili, sia ben chiaro, ma ci danno delle cose che il ritorno non è sufficiente poi per pagare il PNRR, il paradosso. Che è un altro problema. Ecco, tra l'altro questo dicevamo, tantissime dimissioni, soprattutto giovani, peraltro i trentenni, ma anche over 50, che sono quelli che hanno già trovato un altro lavoro, se ne vanno, con una remunerazione poi più alta, percepita. Questo è un altro aspetto. Ma l'aspetto saliente, trasversale, che voi avete analizzato, è il benessere aziendale, su cui avete fatto anche una ricerca, ne parleremo in una prossima puntata, perché è molto interessante. Però quello del benessere aziendale diventa un punto che ritorna sempre. Il benessere aziendale, come ho detto, è fondamentale. È fondamentale sia da un punto di vista di contrattazione, anche per noi sindacati, ma anche perché partiamo dalle reali esigenze di lavoratori. Perché come si è parlato prima delle dimissioni, vuol dire che adesso, oltre a certi aspetti, interessa anche star bene al lavoro. Ma la cosa bella è che, dalla ricerca che abbiamo fatto noi, anche dalle sperimentazioni che abbiamo visto su un'azienda in particolare, è l'azienda stessa a cui interessa il benessere dei lavoratori. Anche qua, non perché magari sia filantropica o tutto, ci sta, ma anche perché un lavoratore che sta bene, produce di più, sta meglio. E quindi, paradossalmente, l'azienda migliorerà. Lo so, è la cosa che fa un po' specie, che sto dicendo, dei concetti veramente banali. Però probabilmente, dopo tanti anni in cui si parlava di tutta fuffa, si parlava di niente, in realtà bisogna essere molto più concreti. Perché le conseguenze si vedono subito. Quando si dice che le aziende non hanno personale per svolgere, per dare servizi, eccetera. Ma anche perché può succedere meno stress, meno malattie, meno anche ricambio. Perché, io ho capito, ci possono essere malattie lunghe. Non ripeto, non parlo di infortuni, che lì purtroppo è un'altra fattispecie. Ma anche lì, c'è una malattia lunga. Devi sostituire il lavoratore o la lavoratrice, allora devi fare formazione a nuovi... Poi sono comunque, anche quelli sono contratti temporanei, a tempi determinati, e si ritorna al lavoro povero, quindi con la discontinuità lavorativa, in cui uno ha lavorato solo tre mesi all'anno, in sostituzione, cosiddette anche, di solito, sostituzione malattie, sostituzione maternità. Quindi per questo, invece, così si può creare un vulnus, un ciclo produttivo migliore, che ci possano anche creare le condizioni per assumere gente, ma a tempo indeterminato, proprio perché così l'azienda è anche più propensa a fare investimenti. Che poi, investire su un lavoratore, formarlo, prepararlo, che diventi efficiente, che sia produttivo, costa per l'azienda, almeno ti entro, fa sì che questo sia contento di restarci. E sul più bello non ti abbandona. Fatti. Segretario, grazie di averci fatto questo escursus. È una bella panoramica su tante problematiche, che sono comunque problematiche gravi, emergenti, che riguardano anche il nostro territorio, riguardano noi da vicino. Le auguriamo buon lavoro. Ci rivedremo anche per parlare di un progetto importante che riguarda proprio il benessere aziendale, ma non vi anticipo nulla. E quindi intanto a voi, buon proseguimento. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi. Rivedete in replica la nostra puntata sul nostro sito internet. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.